La Rassegna Internazionale Organistica è stata inaugurata ieri ad Alghero nella Cattedrale di Santa Maria con il concerto di Fabio Frigato. Il Festival del Mediterraneo, Rassegna di Musica e Cultura in Sardegna, giunto alla sua ventesima edizione, ha in cartellone una serie di eventi e concerti che confermano il grande livello di una kermis. Tra le novità dell'edizione 2020 della Rassegna Organistica, l'esecuzione in apertura delle serate di brani inediti scritti da musicisti sardi su temi musicali della tradizione isolana. Il mese di luglio proporrà altri concerti, sempre nella Cattedrale Algherese di Santa Maria alle ore 21. La Rassegna Internazionale Organistica vedrà ancora una volta alternarsi organisti di fama internazionale a giovani concertisti che si stanno distinguendo a livello nazionale. Venerdì 17 luglio Giulio Gelsomino, martedì 21 luglio Benedetta Porcedda, Sara Pirrone e Domenico Lavena. Giovedì 23 luglio Benedetta Porcedda, Sara Pirrone e Domenico Lavena. Venerdì 21 luglio Fabrizio Marchionni.